È ufficiale, da oggi il decreto legge sul reddito di cittadinanza è in vigore. Interessati a farne domanda anche molti vicentini, secondo le stime della CGL. Riteniamo che una valutazione possa essere su circa 15.000 nuclei familiari in provincia di Vicenza interessati a questo beneficio. Punto di partenza per ogni richiesta avere l'ISE è aggiornato. Un reddito inferiore a 9.360 euro, con un patrimonio immobiliare inferiore ai 30.000, esclusa la casa di abitazione, un patrimonio mobiliare inferiore a 6.000 euro. Per i cittadini stranieri è necessario essere residenti in Italia da almeno 10 anni all'atto della domanda, di cui gli ultimi due in modo continuativo. In realtà i requisiti e i limiti sono tali e tanti che la richiesta va costruita a persona. Anche perché una volta ottenuto il reddito di cittadinanza il soggetto deve farsi parte attiva nella ricerca del lavoro e non tanto e solo attendendo le eventuali offerte che gli verranno sottoposte e che non potrà rifiutare appena la perdita del beneficio. Ma questo è il passo successivo. La macchina è stata pensata veloce con tempi di attuazione stretti, strettissimi e controlli serrati. C'è una prima scadenza che richiede all'Inps la predisposizione di un modello che deve essere approvato entro il 29 di febbraio. Poi la persona interessata deve presentare questa domanda per aver diritto al beneficio il 27 di aprile, perché poi verrà erogato il 27 di aprile, dal 5 marzo in poi. Quindi i tempi sono molto stretti. E se è meglio non affollarsi tutti a marzo per presentare la domanda, è bene già avere l'ISE in regole, aggiornato e ai CAF è già iniziato il via vai di persone. Possiamo dare già un primo appuntamento per le informazioni e ci stiamo anche organizzando, implementando il nostro organico proprio per far fronte a queste richieste che ovviamente altrimenti non saremmo in grado di fare.